Musica Un applauso Posso dire che sono straordinari e poi in una zona dove ci mancavano e hanno fatto veramente un grandissimo investimento e spero veramente che vada molto molto bene Non ci mancava e quindi faccio a tutti un grande bocca al lupo per il prosieguo dell'attività Una cosa bellissima che hanno fatto, ci voleva proprio una cosa così Una struttura penso che in Campania non è uguale Sembra un valore che in qualsiasi territorio, in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto Aiuta, aiuta all'aggregazione, aiuta alla socializzazione aiuta alla fraternità, alla familiarità, oltre alla fisicità Metterlo in un posto come questo è ancora un ulteriore aiuto perché questa è una zona un po' abbandonata a se stessa e quindi averlo qui, proprio in questo posto, è un ulteriore aiuto Alla prossima Ha struttura fantastica, una struttura meravigliosa Qualche cosa che non ha precedenti, insomma una cosa straordinaria È una bellissima struttura, innovativa, moderna e efficiente Spero che vada bene perché il nostro amico Sciro Montella merita perché nelle sue cose dà sempre tanto Sì, sicuramente sono belli, nuovi, moderni che posso dire con tante attenzature che di sicuro ci potranno far divertire Sono contentissimo di questa struttura È fantastica, grande, accogliente specialmente per i bambini che verranno insieme ai genitori Non è solo calcio No, è anche divertimento, soprattutto divertimento per i bambini Un bellissimo centro, complimenti ai Montella Grazie a tutti Splendida Veramente è una bellissima struttura Veramente bella È molto utile, specialmente in inverno quando non si sa dove andare quindi ottima idea È una cosa che non esiste in Campania, secondo me È una struttura molto, diciamo, di qualità superiore alle altre è una struttura molto, diciamo, di qualità Grazie a tutti.